Come connetterci a un database su MongoDB tramite Python? Per prima cosa apriamo il nostro prompt dei comandi e digitiamo pip install pymongo. Perfetto, in questo modo andremo ad installare il modulo che ci servirà per la connessione. Dopodiché apriamo il nostro editor di testo e iniziamo a digitare import pymongo. Dopodiché from pymongo andiamo ad importare il nostro client, nel nostro caso mongoclient. Dopodiché andiamo a scrivere una variabile client a cui passiamo appunto mongoclient e passiamo come parametro la stringa di connessione che possiamo recuperare da Atlas o da MongoDB Compass. Io nel mio caso lo lascio vuoto. Dopodiché andiamo a definire il database, quindi definiamo una nuova variabile DB a cui passiamo appunto client punto il nome del database, nel mio caso corso mongodb. Perfetto, abbiamo effettuato la connessione. Vi ricordo che per accedere ad una collection non vi basterà fare altro che definire una nuova variabile users collection a cui passiamo appunto DB punto e il nome della collection, nel mio caso users. perfetto, questo è tutto. That's all.